Come il titolo stesso dice, questa video-lezione tratterà appunto del rinascimento, introducendolo per bene, introducendo quelli che sono i primi tre artisti, quelli diciamo principali, che inaugurano questo periodo storico, che in parte abbiamo iniziato un po' a vedere. Qui c'è una descrizione di quello che è, che altro, aspetti generali di quello che è il rinascimento, che vi riassumo per sommi capi. Rinascimento è una parola che viene introdotta in seguito, se non ricordo male, intorno al 1700. Leon Battista Alberti, che è uno degli artisti che affronteremo più in là, scrive rinascenza e anche Vasari nelle vite. Usa termini simili, però diciamo che un termine effettivo, rinascimento, viene coniato dopo. Si prosegue su, diciamo, quel rafforzamento che c'era stato durante il periodo del Godico delle signorie locali e sicuramente anche delle grandi monarchie, in particolare Spagna e Francia, che diventano in questo periodo dominanti nel panorama europeo, mentre l'Italia rimane divisa in tanti piccoli regni, stati, repubbliche, ducati vari. E però, proprio all'interno di questo clima frammentato e frammentario, uno dei territori, in questo caso Firenze, la Repubblica di Firenze, si fa capofila di quello che poi sarà l'esplosione del rinascimento e che coinvolgerà chiaramente poi tutta Europa. Ci sono una serie di cambiamenti, soprattutto da un punto di vista artistico, chiaramente, nel quale appunto l'arte viene concepita come uno strumento per migliorare la società, partendo proprio dall'uomo. Cambia la concezione di artista che diventa, non è più un moratore erudito, ma diventa un intellettuale, qualche slide dopo vedremo in che maniera, e che grazie alla sua opera è in grado di cambiare proprio concettualmente, ideologicamente, proprio la cultura di un'intera città. Il 400, questi sono gli artisti che analizzeremo in questa video-lezione, si apre con artisti che sono impegnati nelle tre arti maggiori, che sono l'architettura, la scultura e la pittura, in particolare per la pittura Masaccio, per la scultura Donatello e per l'architettura Brunelleschi. Allora, qui io vi ho riassunto alcuni degli aspetti principali del rinascimento, ci possono essere tanti livelli di lettura. Questi, diciamo, sono quelli che più o meno abbracciano tutta l'arte del rinascimento. Innanzitutto, da un punto di vista artistico, l'artista non è più considerato come, o l'arte in generale, non è più semplicemente una mera operazione di mimesi, cioè di imitazione del mondo circostante o della natura, che era in parte una critica che veniva mossa da Platone stesso contro l'arte. e al punto che, vabbè, Platone, diciamo, aveva anche mire ideologiche di fondazione, lui voleva fondare una repubblica dove i filosofi acquisivano, avevano il controllo, comunque, a cui ai filosofi era affidato il governo, diciamo. Addirittura arriva a definire lo specchio migliore e più funzionale di quello che poteva essere un artista. E in questo senso, con qualche secolo di ritardo, Alberti, Leon Battista Alberti, che scriverà una serie di libri, da cui il Depittura, dove appunto tratta della pittura, scriverà che l'artista e l'arte deve far sì che non ci sia alcuna differenza tra quello che viene dipinto e quello che, cioè tra l'oggetto della raffigurazione, diciamo, è quello che l'artista vede, che è la finestra o che possa essere anche un soggetto, diciamo, un modello di fronte all'artista stesso. Infatti, in questo senso, l'artista, nel Rinascimento, assume il ruolo di intellettuale e non è che si occupa soltanto di pittura, ma studia matematica, studia la geometria, studia chiaramente la storia, ciò che apparteneva all'architettura classica, insomma, l'artista è un personaggio che veramente è un intellettuale a 360 gradi e cerca di rappresentare il mondo un po' sulla scorta di quell'esempio che facevo con Giotto, codificando il mondo circostante attraverso schemi, regole, leggi e cerca di rappresentarlo con una logica che è di ricerca verso la perfezione. E in questo senso deve essere inteso anche l'idea di uomo che diventa il controllore del mondo che egli stesso realizza. Le signorine mi perdoneranno se utilizzerò spesso e volentieri l'accezione maschile della cosa, questa è una premessa che volevo fare, doverosa, non c'è alcun senso sessista o macista, è semplicemente che purtroppo l'antichità, specialmente il Rinascimento, vede la figura maschile predominante rispetto a quella femminile. Ma avremo modo di approfondire questa tematica. L'altro elemento che appunto riprende dal primo punto, chiaramente, che ne è una diretta applicazione, è proprio lo sviluppo e la concezione della prospettiva. E cioè, attraverso l'osservazione razionale della realtà, e in questo senso si vede proprio quell'esercizio che avevamo fatto con Giotto, l'occhio consente di codificare quelle che sono le leggi della prospettiva. Ed è attraverso la prospettiva che l'uomo, l'umano, più genericamente, quindi incluse anche le donne, diventa padrone dello spazio. E in questo senso, specialmente con Brunelleschi, ma anche con Donatella e Masaccio, vedremo come la prospettiva diventa protagonista proprio per non solo proporzionare lo spazio, ma anche per raccontare quello che avviene nello spazio. E in questa ricerca di proporzioni, chiaramente, come anche l'immagine precedente dell'uomo vitruviano, l'uomo stesso arriverà ad essere contenuto in queste proporzioni perfette. L'altro aspetto è il rapporto tra umano e Dio, e cioè, questo è un, diciamo, leitmotiv, per così dire, che veramente collega proprio tutto il Rinascimento, cioè c'è questa idea, questo rapporto tra uomo e Dio, cioè tra ciò che è infinitamente vicino e quindi misurabile per mezzo della prospettiva e delle proporzioni e quindi che è l'uomo o l'umano, e ciò che è invece Dio, e cioè infinitamente lontano. Qui vi ho inserito due opere, questa qui è Piero della Francesca, Dittico dei Duchi di Urbino, e questa invece è La creazione di Adamo, ad opera di Michelangelo. Rappresentano, sono due espressioni, diciamo, differenti, chiaramente, per soggetti e modalità rappresentative, ma che rappresentano fedelmente questo concetto di ciò che è infinitamente vicino e ciò che è infinitamente lontano. Qui possiamo vedere i due, diciamo, protagonisti del Dittico dei Duchi di Urbino, che rappresentano l'umano, cioè ciò che è infinitamente vicino, e il paesaggio che si apre sullo sfondo che invece va a rappresentare quello che è l'infinitamente lontano, la creazione divina e quant'altro. Ma anche, in un certo senso, il rapporto che esiste tra queste due figure, è probabilmente anche legato ai domini del Signore di Urbino, no? Quindi, diciamo, il controllo dell'uomo sul territorio che si avvicina a ciò che è la creazione di Dio, quindi il collegamento di ciò che è umano con ciò che è divino. E anche qua lo possiamo vedere da questa distanza che rimane tra le due dita, quella di Dio e quella di Adamo, che cercano e tendono ad avvicinarsi. L'idea è proprio questa, è che l'uomo debba tendere attraverso anche la manipolazione dello spazio, attraverso lo studio delle proporzioni, attraverso la trasformazione delle città, l'abbellimento delle città verso questa concezione ideale di uomo che è poi un ideale di perfezione e quindi un ideale che si avvicina a Dio. E quindi questo, ciò che è infinitamente vicino e terreno deve tendere ad avvicinarsi a ciò che è infinitamente lontano e cioè Dio, il Divino. L'altro aspetto chiaramente è lo studio, la ricerca, l'utilizzo diciamo di elementi che fanno parte o attengono a quella che era l'architettura romana e greca. In questo senso diciamo che il Rinascimento non vuole rompere con l'architettura medievale anche se in parte l'architettura gotica rappresenta un'interruzione dell'utilizzo dell'architettura classica per così dire, non il romanico chiaramente ma il Medioevo è comunque un elemento di collegamento con il Rinascimento. Il Rinascimento è uno stile che effettivamente a sé stante non è una copia di ciò che avveniva o che veniva fatto con l'architettura classica romana e greca da cui quella romana deriva. Piuttosto è un'interpretazione, è uno studio. l'idea e l'ideale dell'architettura classica per l'artista del Rinascimento è qualcosa non che deve essere imitato ma deve essere conosciuto, deve essere studiato e deve essere migliorato, cioè quella grandezza deve essere anche superata, ok? Questo è il senso dello studio del caso, quindi non è semplicemente un copia in colla dell'architettura classica, è proprio un modello di grandiosità che però attraverso la conoscenza, attraverso lo studio può essere e vuole essere migliorato e con questo poter migliorare anche tutta la società, ok? Allora, come diciamo noi cani unicamente siamo abiti a pensare che il Rinascimento inizi nel 1492 in campo artistico in realtà l'inizio è precedente e in particolare fa riferimento al concorso che viene indetto nel 1401 per realizzare la seconda porta del Battistero di Firenze. la prima è ad opera medievale ed è opera di Andrea Pisano la vedete qui ed è la porta collocata a sud concorso il tema del concorso è la realizzazione di una formella che sono praticamente gli elementi che compongono la decorazione di questa porta che poi appunto dovrà essere che verrà poi collocata nella parte nord che se non ricordo male dovrebbe essere proprio quella che vediamo qui in questa foto di scorcio del Battistero di Firenze che se non insomma chiaramente è stato di ispirazione anche per quella che è la Chiesa di San Miniato che abbiamo visto in precedenza al concorso tra i vari appunto partecipano sia Brunelleschi che Lorenzo Ghiberti che viene dichiarato vincitore noi non vedremo direttamente Ghiberti nelle tutte le sue opere però sicuramente possiamo fare un confronto immediato tra la formella realizzata da Ghiberti e quella realizzata da Brunelleschi la formella realizzata da Ghiberti ha un andamento prettamente diagonale dove sicuramente la proporzione diciamo il rapporto tra le figure è molto armonioso e scusate il tema della formella ho dimenticato di menzionarlo è il sacrificio di Isacco la storia biblica appunto di Abramo che è chiamato da Dio a sacrificare Isacco nel momento in cui lo sta sacrificando arriva un angelo e lo ferma Ghiberti la intende con una composizione che è diagonale la vedete praticamente con la roccia che fondamentalmente separa i tre personaggi che fanno parte diciamo della narrazione principale che sono appunto Abramo Isacco e l'angelo che sta arrivando e gli altri due che sono i servi che appunto accompagnano Abramo Isacco sulla montagna e quindi questa composizione diciamo molto pacata molto diciamo tra l'altro occupa diciamo meno della diciamo dello spazio concesso dalla formella insomma è una composizione tutto sommato equilibrata Brunelleschi invece realizza una composizione che è completamente opposta innanzitutto non è diagonale ma è per fasce orizzontali dove addirittura nella parte bassa dove ci sono appunto i servitori questi tendono proprio ad uscire fuori dalla formella stessa è una composizione molto più drammatica vedete che qui c'è la mano di Abramo che sta per appunto tagliare la gola al figlio e che viene fermata dall'angelo qui credo ci sia anche una descrizione sì appunto ed è probabilmente proprio questo aspetto drammatico che diciamo non incontra ancora il gusto cioè il porsi proprio nel cercare razionalmente perché l'idea del rinascimento è anche giottesca ed è un po' se pensate all'esperienza fatta con l'albero è cercare di porsi nella condizione di dover rappresentare qualcosa nel momento in cui è avvenuta quindi quello che sta rappresentando Brunelleschi è una scena effettivamente drammatica cioè immaginandocela il momento in cui Abramo taglia la gola Isacco è un momento fortemente drammatico e Brunelleschi coglie vuole cogliere questo dramma e lo coglie nella scena e la scena è effettivamente molto più drammatica rispetto a quella di Chiberti dove addirittura è l'angelo a bloccare la mano che sta per tagliare la gola Isacco ed è proprio questo senso di coinvolgimento che è innovativo e che probabilmente non incontra il gusto ancora legato a alcuni stilemi del medioevo che ci troviamo nel 1401 della commissione che giudicherà queste formelle e che giudicherà vincitrice quella di Chiberti che invece ha una posa molto più equilibrata dove sicuramente il senso del dramma c'è ma non è così accentuato questo per introdurre un po' quello che sta avvenendo e diciamo quanto Firenze possa essere in quel momento anche molto come dire rigogliosa o se vogliamo insomma ci sono dei giovani che si affacciano al mondo artistico che insomma vogliono dire la loro e la vogliono dire con un senso anche innovativo nel frattempo chiaramente questa è la prima opera che analizziamo Brunelleschi vi voglio dire anche che Brunelleschi nel frattempo tra il 1401 e quando inizia poi la costruzione della cupola se ne va a Roma a fare un bellissimo viaggio studio con il suo amico Donatello che conosce pochi anni insomma pochi anni dopo il concorso della formella e le storie narrano di questi due personaggi che si aggirano per Roma dissotterrando capitelli dissotterrando come dire resti dell'antica Roma per studiarli e le persone che li vedevano pensavano che fossero dei come dire dei cercatori d'oro nel senso dei cercatori di tesori si dice pure che qualcosa abbiano trovato qualche gemma qualche moneta qualche medaglia insomma però sicuramente erano mal visti a Roma ecco due persone che girano ti sotterrano capitelli e quant'altro e li disegnano li studiano e quant'altro non erano proprio visti bene però insomma fatto sta che loro si regano a Roma a studiare l'architettura e le vestigia diciamo dell'architettura romana nel 1418 Brunelleschi insomma torna a Firenze e nel 1418 partecipa al concorso per la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze ce n'è anche un altro che viene bandito nel 1420 e lo vede vincitore lui per vincere questo concorso addirittura realizza un plastico enorme della cupola proprio per spiegare bene qual era il modo in cui lui intendeva costruirla perché qual era il problema il problema era che la cupola era rimasta incompiuta perché si imposta su un tamburo che è questa fascia ottagonale che vedete appunto che è ottagonale e l'ottagono è una forma geometrica che da un punto di vista di costruzione di una cupola soprastante non funziona molto bene per quanto riguarda l'aspetto statico ma soprattutto è un ottagono che ha delle dimensioni enormi perché ha un diametro esterno di 54 metri e un diametro interno di 42 metri per non parlare del fatto che credo che si attesti ad un'altezza di circa 20-25 metri da terra quindi da un lato c'era il problema di riuscire a costruire le centine le centine vi ho messo qui un video che vi spiega cosa sono sono fondamentalmente l'impalcatura in legno sulla quale viene costruito l'arco o comunque l'imposta diciamo di quella che dovrebbe essere la cupola dimensioni del genere non permettevano questo e quello che va a realizzare lui è tutta la cupola la lanterna che è questo elemento sovrastante e le tribune morte le tribune morte e la lanterna verranno eseguite alla morte di Brunelleschi quindi in una data successiva alla sua morte ma hanno una funzione specifica poi le vedremo in seguito quello che si inventa Brunelleschi che appunto è un artista pienamente rinascimentale è un'opera che è un'opera architettonica che più che architettonica è ingegneristica cioè della matematica qui vi ho messo degli approfondimenti che vi fanno vedere proprio gli aspetti che legano tutta questa operazione che fa Brunelleschi per la cupola addirittura c'è una c'è una serie di rapporti matematici che collegano la cupola con la serie di Fibonacci quindi c'è molta matematica anche all'interno della cupola nonché ingegneria nonché tecnica delle costruzioni ma anche gestione del cantiere perché Brunelleschi non è più muratore rudito ma è un vero e proprio architetto che gestisce anche il cantiere tant'è vero che quello che si inventa per realizzare la cupola sono una serie di ponteggi cioè delle strutture sulle quali i muratori possono iniziare a lavorare e progredire con la costruzione della cupola e possono essere spostati man mano che la costruzione progredisce perché sono sospesi fondamentalmente dopodiché c'è l'altro aspetto fondamentale che è la dimensione colossale della cupola e qui Brunelleschi si inventa una struttura autoportante composta da due calotte una interna che è quella che vedete qui in rosa e l'altra esterna che è quella che vediamo praticamente visibile appunto dall'esterno che caratterizza proprio l'immagine della cupola stessa com'è composta questa struttura questa struttura è composta da otto costoloni verticali che poi sono gli stessi che vediamo qui all'esterno d'accordo all'interno delle quali appunto si vengono a creare otto vele e all'interno di queste otto vele ci sono poi due coppie di costoloni sempre verticali che vengono uniti fondamentalmente da una serie di invece elementi orizzontali che sono quelli che vedete qui quindi crea questa sorta di intelaiatura irrigidita probabilmente l'ispirazione è anche il Pantheon che appunto vede a Roma e che vengono riempiti da delle fasce di mattoni disposti come a spina di pesce la disposizione dei mattoni a spina di pesce in realtà è una tecnica che è ben nota specialmente in ambito bizantino proprio per costruire le cupole proprio perché la disposizione dei mattoni a spina di pesce garantisce una maggiore capacità portante oltre a rendere tutta la struttura più leggera tanto è vero che quello che cerchete di mostrare Brorelleschi lo farà poi appunto alla commissione attraverso i plastici è proprio che l'utilizzo di queste due calotte che sono peraltro separate da un metro e dieci di spazio è che pesi molto meno rispetto a quello che potrebbe essere una normale cupola una tradizionale cupola soprattutto pesa meno nei confronti di cosa dell'ottacono che reagisce molto male alle sollecitazioni verticali quindi ad appoggiarci una cupola enorme sopra di esso l'altro elemento e qui appunto trovate due approfondimenti interessanti ma vi serviranno l'altro elemento sono le tribune morte e soprattutto se non ci avete fatto caso il fatto che la cupola abbia una forma augivale ora probabilmente Brorelleschi non la voleva realizzare in forma augivale ma da un lato si presta meglio diciamo si armonizza con la struttura gotica o comunque medievale che caratterizza la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze dall'altro le conoscenze di Brorelleschi in campo architettonico guardano anche al nord e in particolare al gotico e Brorelleschi è conscio e consapevole che l'arco ad ogiva funzioni meglio per quanto riguarda le spinte cioè diciamo come la copertura come la cupola gravi sopra l'ottagono del tamburo e pertanto una diciamo una struttura con un'ogiva permette di alleggerire il carico cioè favorire le spinte verso l'alto alleggerendo il carico a questo lui introduce anche questi elementi che sono le tribune morti che vi ho segnalato anche qui sono praticamente questi elementi che vedete qui e cosa servono queste tribune morte questa sorta di elementi semicircolari a forma di tempio per così dire da un lato riprendono le coperture delle vere tribune della chiesa e dall'altro servono ad irrigidire e robustire il tamburo e cioè fondamentalmente quello che fanno essere una sorta di archi rampanti e quindi quello che va a costruire e va a utilizzare è una sorta di tecnica gotica ok però riletta in chiave rinascimentale e qua si capisce il senso dell'artista che diventa intellettuale perché non è più semplicemente un artigiano non è più semplicemente un muratore erudito ma è un artista a 360 gradi un intellettuale a 360 gradi che è in controllo della situazione sa gestire la situazione la sa organizzare la sa pianificare la sa portare in opera e attraverso questo controllo l'uomo acquista consapevolezza dello spazio che va a costruire poi va da sé che la cupola rappresenta l'emblema stesso della città di Firenze e domina il suo paesaggio da 600 anni ed è credo la più grande cupola che sia stata costruita dopo il Pantheon insomma in muratura nel 1419 più o meno contemporaneo con la basilica con la cupola di Santa Maria del Fiore Brunelleschi ha chiamato a realizzare un'altra opera che è l'ospedale degli innocenti che è il primo orfanotrofio della storia ed è un'opera che funge un po' da modello per altre opere successive in particolare una chiesa che realizzerà che vedremo a breve qui possiamo vedere però anche il senso diciamo di proporzioni che utilizza Brunelleschi in particolare se vedete questo è un loggiato fondamentalmente composto da una serie di colonne corinzie sulle quali si impostano degli archi a tutto sesto però è tutta letteralmente impostata sul quadrato in particolare possiamo vedere appunto come lo spazio diciamo il passo delle colonne descriva un quadrato che è praticamente dato dall'altezza stessa delle colonne chiaramente il mezzo quadrato quindi metà di questa altezza è l'arco due volte questa altezza e avremo l'imposta sulla quale si collocano le aperture tra un arco e l'altro tra l'altro vengono inseriti anche dei medaglioni che sono opera di una famiglia di ceramisti molto famosa in questo periodo che sono i della robbia sono molto famosi non credo che avremo tempo di vederlo però io ve li menziono perché l'opera in ceramica è molto interessante fa storia a sé quasi e loro diventano una famiglia molto importante io ho avuto anche modo di vedere altre opere non solo questa qui dall'ospedale degli innocenti devo dire che da un punto di vista della scultura e delle realizzazioni sono veramente un'opera interessante poi per chi magari fosse interessato posso dare anche dei riferimenti anche far vedere delle altre immagini e quindi possiamo cominciare a vedere come lo spazio progettato da Brunelleschi comincia ad impostarsi su una serie di proporzioni il quadrato e il cerchio io vi ricordo che sono delle forme e delle geometrie perfette cioè attengono al divino e il rinascimento è per eccellenza il secolo nel quale quadrato e cerchio specialmente in architettura vengono utilizzati proprio per dimensionare e proporzionare gli spazi infine vi volevo far notare come lui completi diciamo le volte diciamo di questo loggiato con l'utilizzo di quella che è una volta a vela cioè una copertura che è semisperica ed è iscritta all'interno di un quadrato questa la utilizzerà anche in altre opere l'altra opera importante sempre impostata sul quadrato sono la sagrestia vecchia all'interno della basilica di San Lorenzo che è una basilica che egli stesso poi rimaneggia cioè realizza insomma progetta il suo rifacimento insomma l'uso del quadrato in questo caso crea proprio un ambiente cubico all'interno del quale si inserisce una cupola impostata sui pennacchi che vi ho evidenziato con il numero uno insomma li trovate lì e la cappella che si apre lì che anch'essa è impostata sul quadrato e di fatto la grandezza è circa un quarto diciamo dello spazio interno e quello che poi si caratterizza e questo diventa una sorta di marchio di fabbrica di Brunelleschi è l'utilizzo di questo intonaco leggero e che viene marcato dall'utilizzo di questa pietra serena grigia per evidenziare gli elementi diciamo in questo caso sono delle paraste corinzie degli elementi diciamo architettonici come gli archi ok a tutto sesto concludizzo di questa pietra serena grigia quindi che crea questo contrasto e quindi marca in un certo senso lo spazio architettonico o comunque ciò che va a comporre lo spazio architettonico proprio gli spigoli va a marcare la cappella la sagrestia vecchia si colloca all'interno della basilica di San Lorenzo che è una basilica che in realtà esiste già e la quale Brunelleschi lavora a moderna diciamo a partire dal 1421 proprio su quella scorta anche di studi che conduce insieme all'amico Donatello che vi raccontavo prima proprio a Roma qui in quest'opera riprende in parte quello che è il loggiato che utilizza nell'ospedale degli innocenti e che viene in questo caso raddoppiato per formare quello che è appunto la navata centrale e le due navate laterali che poi sono in corrispondenza degli archi diciamo vengono poi realizzate anche delle ulteriori cappelle laterali quello che è l'aspetto però più interessante e più importante di quest'opera è proprio il senso prospettico qui possiamo vedere un'immagine dell'interno perché la prospettiva che lui realizza attraverso questa serie appunto di colonne e archi a tutto sesto è quello della prospettiva centrale che deve tendere deve puntare direttamente verso l'altare che è quello il punto importante perché è lì dove sta il divino ok quello che lui fa è fondamentalmente riprendere il tema delle basiliche paleocristiane ma anche romaniche perché San Miniato fondamentalmente è fatta così semplicemente al tetto a capriate in questo caso io vi ho messo l'immagine di Santa Sabina l'altro elemento che introduce è il cosiddetto dado brunelleschiano in realtà è un pulbino il pulbino è l'elemento che veniva utilizzato questo trapezio questo prisma rovesciato insomma che veniva posto sopra al capitello nell'architettura bizantina in questo caso brunelleschi lo utilizza a voler simboleggiare virtualmente l'idea che sopra le colonne ci sia una trabeazione non potendosi essere quello che va a realizzare appunto è inserire questo elemento che simula l'idea di una trabeazione ma serve anche cosa a spingere in alto tutto il piano diciamo dell'imposta degli archi ok e quindi realizzare diciamo sopraelevare diciamo il livello sul quale poi arrivano vanno ad arrivare gli archi quindi diciamo rispetto a Santa Sabina ci troviamo qualche pezzo sopra d'accordo quindi più o meno gli archi si sarebbero impostati più o meno dove li vediamo oggi sarebbero un modulo più su e serve appunto per enfatizzare proprio questo senso prospettico ok qui poi vi ho messo anche degli approfondimenti per capire meglio quest'opera e nel passaggio con l'altro artista che presentiamo Donatello vi faccio vedere due crocipissi perché in realtà questa è una storia bellissima che lega diciamo Donatello e Brunelleschi nell'arte diciamo della scultura e in particolare quello che succede è che a Donatello viene diciamo Donatello viene incaricato di realizzare per la chiesa di Santa Croce un ops un crocifisso ligno lo realizza lo fa vedere a Brunelleschi Brunelleschi considerate che da quello che si legge insomma ha un carattere molto spicoloso considerate che per esempio lui questo vi racconto quest'aneddoto lui quando lavorava appunto alla realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze lo faceva all'inizio in collaborazione con Ghiberti che appunto è quello che lo ha tra più o meno sconfitto nel primo concorso lui a un certo punto siccome Ghiberti è un bravissimo scultore ma di architettura ci capisce poco ed è così per dimostrare la sua incapacità un giorno si finge malato quindi non va in cantiere si finge malato e lascia Ghiberti lì da solo in una situazione che era molto delicata e in una situazione molto delicata se tu non sei pratico non sei abbezzo non sei un architetto e non sei predisposto preparato per questo fai una figura barbina e così è successo tant'è vero che Ghiberti viene rimosso dalla diciamo dalla realizzazione della cupola e viene dato l'incarico esclusivamente a Brunelleschi questo per farvi capire che carattere e che tipo di persona era Brunelleschi Brunelleschi è una persona molto schietta quando Donatero gli fa vedere questo crocifisso che è questo qui che vedete a sinistra non so per quale motivo non si vede il puntatore del mouse che è molto utile in queste situazioni qua praticamente gli dice che sto crocifisso sto Gesù sembra un contadino non è bello non è bello da vedersi è sgraziato sembra un contadino sembra un contadino perché? perché sì sicuramente l'impostazione è abbastanza rigida quella che gli dà Donatello però il viso è estremamente maciato cioè estremamente segnato dalle violenze che aveva subito sempre perché? perché l'idea era quella di porsi nelle condizioni di dire ok che gli è successo a Cristo quando l'hanno messo sulla croce tutta la parte del martirio che gli viene fatto come riducono una persona quello che cerca di fare Donatello è porsi in questa condizione e se guardate in altre immagini non questa chiaramente diciamo il senso di questo crociviso è tutto concentrato sul viso ok veramente emaciato ridotto proprio si capiscono i segni della violenza che ha subito per il resto è un crociviso che ha diciamo una plasticità ma che non funziona benissimo se lo si guarda di lato cioè funziona visto frontalmente e Donatello giustamente gli dice beh però tu se è buono solo a giudicare insomma fammelo vedere se sei bravo come li fai i tuoi crocivisi e al che fatalità gli arriva la commissione di questo crociviso per la chiesa di Santa Maria Novella Brunelleschi che lo vedete sulla destra e quando lo vede Donatello gli dice certo adesso che lo vede a me è concesso fare contadini a te è concesso fare Cristo perché chiaramente il crociviso di Brunelleschi è molto più naturale tra l'altro è impostato su un quadrato cioè la larghezza delle braccia è uguale alla lunghezza diciamo di tutto il corpo di Cristo quindi fondamentalmente iscrive la figura dell'essere umano all'interno di un quadrato un po' come l'uomo vitruviano ok questo per raccontarvi questo aneddoto che ci permette diciamo di fare da ponte tra l'opera architettonica e scultorea anche di Brunelleschi e l'opera scultorea di Donatello che in particolare inizia con la statua di San Giorgio io qui vi ho messo il dettaglio sul viso di San Giorgio perché guardando l'oggi volta a me ricorda sempre un'altra grande scultura che vedremo a breve ma che probabilmente vi ricordate perché l'avrete già vista che si trova sempre a Firenze allora viene commissionata tra 1416 e 1420 da questa associazione dei corazzai di Firenze che hanno come santo padrono proprio San Giorgio che è quello che ammazza il drago per capirci è alta poco meno di due metri e viene realizzata appunto seguendo questa sorta di posa marziale con le gambe piantate a terra divaricate e poi questa composizione che descrive quello che è un triangolo isoscele che però man mano che prosegue verso l'alto fino ad arrivare diciamo al busto la scultura acquista proprio un dinamismo che è dato un po' dalla rotazione diciamo delle spalle e quindi anche poi del bus del volto ma soprattutto anche da questo movimento delle braccia che sembra proprio naturale assecondare questo gesto di rotazione del corpo e quindi diciamo che se da un lato la posa sembra statica acquista dinamicità questo rende proprio un carattere di naturalezza ma anche solennità che insieme al volto che appunto è un volto ideale concentrato ma sereno cercano un po' di voler rappresentare quello che è l'ideale di un uomo ma che è anche un eroe quindi non solo un santo ma anche un uomo ed un eroe l'altra grande opera importante di Donatello è sicuramente il banchetto di Erode che è un rilievo in bronzo collocato sulla fonte battesimale nel battistero di Siena viene realizzata intorno al 1427 e diciamo che lo spazio della fonte battesimale è veramente esiguo è un quadrato piccolissimo se qualcuno è curioso c'è l'approfondimento potete vedere com'è lo spazio insomma e in questo spazio lui deve raccontare una storia biblica che è abbastanza complessa perché si svolge in diversi luoghi e lui quello che cerca di fare è raccontare tutto quello che avviene vedremo che quest'unità diciamo voler rappresentare una storia nella sua totalità verrà utilizzata anche per esempio da Masaccio ma in generale qualcosa che già nel medioevo si aveva di voler rappresentare queste storie nella loro totalità quello che però cerca di fare in questa situazione è da un lato diciamo ricreare quello che è ecco tornato il puntatore quello che era l'ambiente di una domus o che poteva essere l'ambiente di una domus romana o comunque diciamo un ambiente che riguarda l'antichità romana ok utilizzando anche quella che è la prospettiva ma come la utilizza questa prospettiva e come rende la profondità ma soprattutto come racconto una storia che avviene secondo diverse fasi cioè c'è la decapitazione perché San Giovanni Battista viene decapitato quando sta nella cella c'è un corteo con dei musicanti che accompagna diciamo la testa decapitata di San Giovanni Battista fino al banchetto e poi appunto viene presentata qui nel banchetto la vediamo qua allora come avviene avviene attraverso la prospettiva cioè nel senso che la scena di fondo racconta il momento in cui avviene la decapitazione nel mezzo il piano di mezzo quindi il secondo piano il terzo piano il secondo piano racconta la parte dei musici mentre in primo piano in rilievo aggettante quasi insomma lo vedete vedete fa anche ombra addirittura troviamo invece la presentazione diciamo il banchetto con la presentazione della testa qui Donatello quello che sperimenta perché lui è un grande sperimentatore è lo stiacciato che è una cosa stranissima da raccontare si capisce meglio guardandolo che non dicendolo comunque fondamentalmente lo stiacciato serve per creare fondamentalmente consiste nel creare un rilievo meno profondo e cioè praticamente rispetto al primo piano lo stiacciato consiste nel creare un rilievo meno profondo nelle figure che sono queste intermedie quindi nel secondo piano e arrivare quasi ad una incisione nella slide successiva c'è un'immagine per avvicinata di dettaglio per quello che riguarda il terzo piano quindi riducendo man mano progressivamente lo spessore del rilievo crea spazialità crea profondità ok questa è un'invenzione diciamo che sperimenta già con Ghiberti anche Ghiberti però sperimentarla ma diciamo il grande utilizzatore è Donatello e serve appunto per rendere un effetto ancora più plastico e prospettico in una diciamo in un elemento che ha uno spessore credo se non ricordo male 7 centimetri e mezzo comunque c'è quello di approfondimento qui possiamo vedere dei dettagli in particolare la presentazione della testa e quindi anche le espressioni diciamo tutta la parte diciamo di ambientazione per quanto riguarda la parte diciamo dei caratteri dei personaggi no e delle espressioni e dei sentimenti che si provano in quella scena e qui possiamo vedere un dettaglio dello stiacciato se vedete nel fondo il rilievo si riduce man mano e diventa quasi semplicemente un'incisione e questo crea con un aspetto di ulteriore profondità che è enfatizzato ulteriormente chiaramente all'utilizzo poi di questa scena che è posta in prospettiva l'altra grande opera di Brunel di Donatello perdonatemi è chiaramente il David piccola ma grande piccola ma grande perché? perché è un simbolo della città di Firenze metaforicamente chiaramente ma anche poi storicamente rimane rimane chiaramente un simbolo della città perché? perché la storia narra chiaramente la vicenda biblica narra del fatto è una metafora viene riletta per dire che l'intelligenza l'astuzia vincono sulla forza bruta e anche la dimensione possente ok? perché Donatello è piccolo e sconfigge Golia che è un gigante e diventa una metafora per descrivere la città di Firenze che è piccola dispetto delle grandi monarchie delle signorie anche in Italia ma che da sola diciamo si rende motore propulsore del rinascimento in tutta Europa probabilmente in tutta Italia sicuramente ma in tutta Europa e qui fondamentalmente quest'opera che in bronzo è realizzata con questa tecnica c'era persa e qui potete vedere un approfondimento è proprio rappresenta uno degli ideali del rinascimento infatti nel medioevo il nudo era considerato peccaminoso mentre qui nel rinascimento David può essere nudo perché è protetto proprio da quella che è la sua virtù morale poi questo aspetto diciamo un po' malizioso con un po' di malizia proprio perché lui è un grande sperimentatore viene un po' giocato da Donatello infatti se le virtù morali proteggono David Donatello lo realizza dandogli delle fattezze da giovane da giovinetto che però è sicuro di sé è triunfante rispetto al gigante che ha la sua che la cui testa insomma è qui tra i suoi piedi ok completare questo aspetto poi c'è questa posa che richiama il chiasmo delle sculture delle statue greche del periodo classico come ad esempio il Doriforo che viene utilizzato anche da Ghiberti come schema in una delle formelle non ricordo quale esattamente e comunque diciamo Ghiberti è in parte insomma il maestro di Donatello cioè almeno Donatello si forma anche con Ghiberti o collabora anche con Ghiberti però ci sono poi degli altri aspetti che diciamo lo rendono ancora più rendono questa scultura ancora più ambigua e cioè ad esempio l'utilizzo del copricapo dei calzari alati la spada che tra l'altro a livello compositivo diciamo buca la composizione la sbilancia la rende un po' più come dire la rende sinuosa ma la rende anche molto più incerta e il fatto che non ci sia la fionda ma che soprattutto Golia non abbia la ferita e questo fa pensare che probabilmente Donatello si sia ispirato più che alla storia vera biblica alla vicenda raccontata nelle metamorfosi di Ovidio del dio Mercurio che sconfigge Argo e che probabilmente questa sia la rappresentazione del dio Mercurio con i calzari alati per l'appunto il copricapo e la spada tratta proprio da quella vicenda piuttosto che quella pubblica andiamo avanti e arriviamo nel periodo in cui Donatello si trasferisce a Padova questo è un periodo importante perché Donatello si trasferisce a Padova e qui realizza una serie di cose tra cui la statua equestre il monumento equestre al Gattamelate il Gattamelate ha un nome particolare chiaramente ma è un condottiero della Repubblica di Venezia qui a fianco vi ho messo la statua del Marco Aurelio perché ve lo dico a breve perché fondamentalmente togliendo una piccolissima veramente piccola statua dedicata a Carlo Magno equestre quella del Gattamelate è la prima opera di questo genere dai tempi dell'antica Roma con la statua di Marco Aurelio a cui evidentemente o probabilmente viene ispirato perché Donatello a Roma c'è andato il Gattamelate vi ho detto era un condottiero e qui Donatello lo celebra con il bastone del comando appunto sul suo cavallo con una corazza che ricorda l'armatura romana ma non è proprio una copia perfetta quindi probabilmente un'interpretazione una volontà di dare qualcosa in più a questo cuore una solennità maggiore probabilmente il cavallo qui accenna un passo e sembra come se fosse in una marcia solenne con lo sguardo del Gattamelate che si apre verso l'infinito verso l'orizzonte verso l'infinito se volete verso Dio verso il paradiso insomma il volto come è possibile vedere è riprodotto in maniera molto realistica e va a restituire questo carattere fiero e solenne proprio del personaggio ok più a pato poi realizzerà un'altra opera importante che è l'altare del santo appunto nella basilica di Sant'Antonio passiamo a Masaccio Masaccio è attivo è il pittore diciamo abbiamo parlato di architettura abbiamo parlato di scultura ora parliamo di pittura Masaccio è la parte pittorica del primo rinascimento ed è attivo pochissimi anni perché poverino muore molto giovane ed è attivo dal 1422 fino a più o meno il 428 e in soli sei anni però è talmente innovativa la sua pittura in realtà è molto giottesco però è molto innovativa per il periodo che viene considerata insieme a Donatello e Bronilischi appunto tra i padri del rinascimento o comunque tra coloro che inaugurano la stagione del rinascimento tant'è però che la sua pittura è talmente influenza talmente tanto gli artisti che la riprenderanno persino Michelangelo e Raffaello una delle prime opere ce ne sono altre dove si vede proprio l'influenza giottesca ma insomma non evitare di fare questo tutorial è troppo lungo realizza una delle opere tra il 422 e il 1428 realizza insieme ai suoi allievi o comunque collaboratori realizza gli affreschi della Cappella Brancacci che si trova all'interno della Chiesa del Carmine a Firenze e raccontano appunto la vita di San Pietro e nella parte diciamo d'ingresso ci sono invece delle storie ispirate alla Genesi tra cui questa avremo tra cui diciamo la cacciata dei progenitori che avremo modo di vederla in seguito perché ci si ispira Michelangelo insomma vari artisti quindi tornerà ok non c'è problema la vedremo in seguito qui c'è uno schema diciamo dove vi spiega più o meno diciamo chi ha realizzato cosa Masolino e Filippino Lippi Lippi non l'allenatore chiaramente di calcio né il conduttore ma Filippino Lippi artista che appunto collaborano con lui e che poi probabilmente proseguiranno alcuni dei lavori nel momento in cui lui Masaccio muore in particolare una delle opere più importanti nella cappella a Brancacci fatta appunto da Masaccio insieme a altri è Il pagamento del tributo che è un'opera appunto che narra di Pietro di San Pietro e qui praticamente quello che succede è che la profondità spaziale viene definita in maniera molto preponderante attraverso l'uso della prospettiva il cui fuoco prospettico come potete vedere in questa immagine è la figura centrale che niente pombo di meno è Gesù sul fondo che appunto accompagna poi tutta l'opera questo sfondo che vediamo riprende molto quella che è il lavoro di Giotto fatto l'altro aspetto che caratterizza quest'opera sicuramente è la capacità di rendere tridimensionalmente i personaggi attraverso cosa l'utilizzo del chiaroscuro vedete il panneggio dei personaggi come è reso e come rende plastici questi personaggi è questo che rende Masaccio veramente un pittore innovativo è uno dei padri fondatori del rinascimento l'altro aspetto che caratterizza particolarmente quest'opera sono anche le aureole se vedete le aureole contribuiscono sono comunque messe in prospettiva sono tridimensionali non sono più bidimensionali ma sono tridimensionali e quello che è importante poi notare è un altro aspetto è che in quest'opera il fatto evangelico in questo caso è raccontato in tutta la sua totalità come avviene pure un po' con Donatello e il barchetto di Erode si racconta in tutta la sua totalità quindi qui ci sono qui c'è una scena divisa in tre atti e qui al centro c'è la richiesta di pagamento del tributo da parte del gabelliere che è questa persona un personaggio centrale di spalle vestito in arancione qui c'è l'intercezione di Gesù e San Pietro che lo vedete è quello con i vestiti blu e arancioni lo stesso San Pietro lo vedete diciamo di lato a sinistra la vostra sinistra mentre scava e dove trova praticamente l'obbolo ok quindi avviene questo miracolo lui trova il tributo che deve essere pagato al gabelliere e lo rivedete San Pietro infatti a destra nella scena a destra che paga proprio il gabelliere in questo caso qui è interessante perché c'è proprio un disegno che può essere fatto anche in pianta visto dall'alto e può essere poi riprodotto in prospettiva sulla quale sarebbe interessante magari a febbraio cominciare a fare un lavoro anche su questo sulla prospettiva di pratica diciamo l'altra opera importante è più significativa propriamente di Masaccio è la Trinità anche perché qui è un po' incerta la questione anche pare che abbia collaborato con Brunelleschi insomma la storia è un po' particolare da questo punto di vista qui la composizione la potete vedere è intuitiva è triangolare ok ma serve a cosa? stabilire una gerarchia una gerarchia tra i personaggi perché alla base vediamo i committenti dell'opera che sono inginocchiati in preghiera anche qua vedete come il chiaroscuro nei panneggi nelle vesti serve proprio a dare tridimensionalità e corpo ai personaggi stessi nella fascia intermedia sotto la croce ci sono Maria e San Giovanni non il Battista ma l'Apostolo Gesù sulla croce e quella croce è sorretta direttamente da Dio ok quindi Dio si incarna per sostenere la croce ed ha un messaggio allegorico ve lo faccio vedere tra poco in breve poi insomma c'è l'approfondimento che potete vedere qui quello che caratterizza il contesto chiaramente è un contesto fortemente classicheggiante vediamo qui delle paraste che sorreggono appunto una trabbeazione paraste corinzie dei capitelli e delle colonne ioniche che sostengono invece un arco a sesto acuto sul quale poi si imposta diciamo una volta a botte cassetto nata questi sono termini che dovete imparare ad entrarci in confidenza perché tanto vengono utilizzati sempre e spesso durante l'arte rinascimentale qui c'è l'approfondimento e questa è la parte più interessante cioè l'opera è concepita come fosse una prospettiva che si guarda dal basso cioè dal punto di vista nel quale un osservatore la potrebbe guardare e nella parte basamentale ora il puntatore è nuovamente sparito comunque al di sotto qui non si vede in questa foto perché è tagliata c'è disegnato uno scheletro cioè c'è rappresentato c'è l'affresco di uno scheletro ed è fondamentalmente tutta un'idea come dire c'è tutto un messaggio simbolico che vuole rappresentare la morte la preghiera la preghiera che arriva ai santi e arriva a Gesù e poi a Dio quindi alla salvezza e solo attraverso la preghiera noi possiamo salvarci il senso è un po' questo nella morte per raggiungere il paradiso il senso di questa il senso metaforico allegorico di questa di quest'opera che chiaramente non è tridimensionale è un affresco questa è una rappresentazione per farvi capire come la spazialità dei personaggi venga rappresentata bidimensionalmente da Masaccio attraverso le regole della prospettiva facendosi o simulando un punto di vista che è quello dell'osservatore quindi è come se l'osservatore stesse guardando quest'opera dal basso tant'è vero che questa volta a botte spinge e tende ad andare verso giù perché il punto di fuga è più in basso ok con questo ho concluso questa video lezione mi raccomando guardatevi per bene gli approfondimenti perché vi serviranno per svolgere un compito di realtà che è collegato con queste lezioni qua nel frattempo che io non ci sono va bene buon lavoro e buono studio